E' sempre una sensazione unica perché comunque è un momento molto aspettato dopo mesi di lavoro con la squadra qua a Maranello, tutte le discussioni che ci sono state sui punti da migliorare e dopo anche la voglia di vedere il nuovo design della macchina che mi piace tanto, ovviamente senza sorpresa è rossa, è bene così, però ci sono piccole differenze sui dettagli che mi piacciono molto e sì, è un'emozione sempre unica di vederla per la prima volta dopo così tanti mesi di lavoro. Non ci sono input particolari da parte mia per il design della macchina, ovviamente sulla parte tecnica di più perché le caratteristiche della macchina precedente c'eravano qualche cosa da cambiare, quindi noi diciamo la nostra come piloti e ingegneri per provare a modificare questo, ma in termini di design abbiamo un team molto bravo che ha fatto delle macchine stupende e quindi noi ci godiamo solo il risultato. Le sensazioni dal simulatore sono state positive, ovviamente dopo c'è sempre il punto di domanda di quanto tutto quello si conferma in pista e quello bisognerà aspettare Bahrain, però le sensazioni erano positive e in più tutti i punti in cui facevamo fatica l'anno scorso non era il caso sul simulatore, quindi non vedo l'ora di provarla in realtà, sperendo che si avrà anche nella realtà. Mi aspetto a un passo avanti, come ogni anno questo è l'obiettivo, l'anno scorso è stato un anno difficile, dopo un 2022 che era molto positivo, il 2023 è stato molto più difficile, però adesso noi ci concentriamo e pensiamo solo ad andare avanti e a riportare la Ferrari a vincere e quindi sì, mi aspetto a un passo in avanti, sperando che tutte le caratteristiche che c'era da modificare perché eravano punti deboli saranno modificate in meglio per avere una macchina che ci farà vincere molto di più. La sensibilità al vento credo che sia il punto più importante per noi di migliorare, senza dire ovviamente che vogliamo sempre un pacchetto più veloce, quindi con più punti di aerodinamica, quello è sempre lo scopo, però per andare più nello specifico la sensibilità al vento è quella cosa che ci ha fatto fare sudare un po' di più nel 2023 e spero che questa cosa sarà modificata per quest'anno. Semplicemente grazie per sempre essere qui, abbiamo avuto anni bellissimi, altri anni molto difficili, però una cosa che non è mai cambiata è il vostro sostegno, quindi grazie mille di esserci sempre, noi daremo assolutamente tutto per avere un anno migliore di quello dell'anno scorso, con molto più vittorie, che così voi siete contenti o da casa o dalle tribune e noi siamo anche molto più contenti da dentro la macchina e tutto il team qua a Maranello è in pista. Grazie ancora per il sostegno e a presto in pista. Grazie a tutti.